L'Academy Catane Under 15 rimanda ancora all'appuntamento con la prima vittoria. Sullo comunale in terra battuta 10 bollacorsi, un gol per tempo con l'Academy Barcellona per un pareggio e uno svantaggio da recuperare a freddo. Cambio di marcia nella ripresa e anche tanta tenacia nel resistere a un possibile 0-2 avversario. Finale in crescendo di partita ma occasione andata a vuoto di fronte a un avversario in lotta per la permanenza. Comunque nel complesso è la conquista del primo punto stagionale che rompe la serie negativa di 5 sconfitte. Di Barbalace il vantaggio dei rossi ospiti a metà tempo, gol a cui risponde la squadra di casa guidata da Josech Isari con Daniel Connelli che va da David Zappalà. Sale Maurizio Cocco che riceve opta per l'imbocata. L'Academy Catane va vicino, vicino all'uno pari e solo per una determinante uscita del portiere ospite non pareggia i conti. Allo scadere Stefano Cavallaro apre su Gabriele Lamattina, cross per Cocco che di coscia l'appoggia su Samuele Zingale. Conclusione raso, niente pericoli clamorosi e lo stesso fa Cavallaro proprio a ridosso del duplice fischio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mentre un paio di minuti prima Barcellona è sul punto di piazzare il colpo del K.O. Molto pesante ma non ne sa approfittare. E nella ripresa si ferma di fronte a questo ottimo intervento di Loris Gullisano sul calcio piazzato. Questa serpentina di Cocco nella seconda parte di tempo, la palla beffardamente va a stamparsi sul palo, è il segnale che qualcosa è in evoluzione per i padroni di casa. Così Nicola Russello dal cuore del campo lancia Zappalà che gioca risponda su Cavallaro. Calibrato e incrociato il destro dell'attaccante dell'Academy Catane è un'imitazione del gol avversario di cui sopra proprio nella stessa porta. 1-1 ed è guagliato a quota due reti Zingale nella classifica marcatori della squadra, più uno lo ha segnato Zappalà. Gol importante che consente all'Academy Catane di crescere in vista del finale di partita. Nel finale il sogno dei primi tre punti stagionali si infrange sulla testa di Zappalà che non è preciso nel colpire un cross di Alessandro Castorini proprio negli assalti conclusivi. Il tutto per provare a vincerla ma finisce 1-1 e al prossimo giro sarà Masca Lucia contro la Team Sport, la destinazione dell'Academy Catane ai giovanissimi.